Mia zia ha quel morbo che ha il timer, uno dice abbi fede, io abbi fede, ma abbia anche qualche dubbio, porgio l'altra guancia, io due ce no, dopo di che me posso ingazzare? C'ho due figli, il più piccolo Carmelo e un figlio a distanza, perché lo vedo solo la sera, ha sedici anni, frequenta l'istituto tecnico, frequenta, fa finta, c'ha tutt'altro in destra, il motorino, la musica, il sottotorno, il luna poppins, adesso vuole fare il pierce, il buco al naso, già ce ne ha due.